Abbiamo parlato delle problematiche della fame nel mondo, di questo miliardo di persone che soffre la fame, di 3 milioni di cittadini che muoiono di fame e della grande opportunità che abbiamo assieme al direttore Diuf di investire tutte le nostre forze sul G8 Agricoltura che si terrà in provincia di Treviso ai quali ovviamente lui parteciperà, gli ho consegnato anche l'invito ufficiale per cui abbiamo l'onore di averlo tra i relatori e tra le grandi autorità che parteciperanno a questo vertice.